Alex Marangone è caduto accidentalmente dalla piattaforma in cemento sul piave poco distante dall'abbazia di Vidor dove si stava svolgendo il raduno sciamanico o è stato spinto giù dopo essere stato picchiato. Cosa aveva assunto? Il procuratore capo di Treviso Martani che indaga per omicidio volontario oggi fa il punto sull'inchiesta e non esclude neanche la caduta accidentale così come ipotizzato all'inizio di questa indagine. Una sorta di passo indietro. Ci sono ancora tanti punti da chiarire sulla dinamica. La vittima non ha lesioni agli arti superiori, agli arti inferiori al collo, non ne ha sul palmo delle mani o ai polsi. Se un corpo cade da una superficie rialzata istintivamente pone le mani in avanti. Il barista veneziano di 25 anni secondo l'autopsia aveva gravi lesioni al cranio e alle costole. Per chi indaga però è ancora tutto aperto. Bisogna incrociare gli esiti del sopralluogo effettuato ieri dai carabinieri, dal procuratore capo e dal medico legale, quegli degli esami tossicologici sul corpo del ragazzo che non ci sono ancora e le testimonianze acquisite in questi giorni. Sono stati sentiti i partecipanti al raduno mentre restano da ascoltare i due curanderi colombiani che si sarebbero allontanati con il ragazzo quando alle tre di notte è uscito dall'abbazia e che poi sono spariti. Non è chiaro se siano stati sentiti in seguito. Cosa aveva assunto Alex? In che condizioni era quella notte? L'ayahuasca, l'allucinogeno potente che non consente però di muoversi liberamente? Gli investigatori ieri si sono soffermati a lungo sulla terrazza antistante l'abbazia che si affaccia sul piave. Hanno percorso il sentiero che dal giardino porta alle mure esterne. Hanno prelevato terra, arbusti, anche campioni d'acqua che scorre sotto al terrazzamento per confrontarla con quella trovata negli organi di Alex. Domani, sempre lì nella scarpata, ci sarà un altro sopralluogo coi vigili del fuoco e si spera altre risposte.